Scialpi è in difficoltà economiche e chiede aiuto. Il cantautore, 58 anni, in un'intervista a Rolly Stone racconta di aver attraversato un momento molto difficile, di aver investito tutti i suoi risparmi nell'incisione di un nuovo brano e di aver bisogno di assistenza. In questo momento mi trovo in una situazione di estrema indigenza, come il 90% della gente che fa questo mestiere. Faccio parte di una fetta di persone che non sono calcolate né dallo Stato né dall'immaginario collettivo. Scialpi, al secolo Giovanni Scialpi, lancia così un appello. Sarei anche disposto a fare il cameriero o qualsiasi altra cosa mi venisse proposta. Io suono molte cose, posso affrontare tanti ambiti lavorativi. Farei qualsiasi cosa mi dia la possibilità di essere me stesso. Non sono una cattiva persona e vorrei aiutare il prossimo come fa un prete in chiesa o un professore a scuola.